Mi è capitato di assistere a diversi processi partecipativi e ho potuto notare come in tutti il ruolo della facilitazione sia stato fondamentale. Mi viene in mente un episodio in cui per esempio dei partecipanti si sono un attimo quasi messi un po' a litigare con un membro dello staff, per cui i toni sono diventati più accesi, le persone hanno iniziato a parlarsi una sull'altra e a interrompersi e il facilitatore è riuscito, riformulando quello che le due parti in causa dicevano, a calmare decisamente la situazione e a farle convergere verso un obiettivo.